Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi un nuovo video su Fallout 76. Perché ho avuto modo, lo avrò in realtà tra qualche giorno, di provare alcune nuove features, tra cui anche il Fallout First, ma voglio iniziare a parlarvi di quello che per me è stato uno dei migliori esempi di come un gioco possa ripartire, un po' come lo è stato nel 2016 per No Man's Sky. Fallout 76 l'ho detto più volte e al contrario di quello che molti mi dicono, per me resta un gran gioco. Vi voglio parlare di alcune novità che avverranno nel corso di questo mese e anticiparvi anche che sto pensando di farci una live una sera. Allora, quello che voglio mostrarvi come prima novità è questa. Ora vi mostrerò anche un pochino i dettagli un pochino più avanzati, diciamo, nel senso che con l'abbonamento Fallout First, oltre a ricevere mensilmente 1650, mi pare, atomi, che è una valuta con cui potete acquistare cose estetiche e non, avete modo di creare la vostra palacchia personale, il vostro mondo personale, cioè, prima di tutto, vabbè, potete giocarvi un'avventura solo con i vostri amici, quindi fino a 8 giocatori avete il mondo solo per voi e ve lo giocate, ve lo godete. Il mondo personalizzato, invece, va a cambiare anche quelli che sono i parametri da, diciamo, admin del vostro mondo, nel senso che, adesso vi faccio vedere, poi sto aspettando che mi venga attivato il First in modo che vi possa mostrare all'interno come funziona, in pratica avete la possibilità, vabbè, di cambiare il nome della partita e tutte le impostazioni del mondo, quindi potete cambiare le regole di PvP, le regole di costruzione, le regole di spawn di mostri, c'è veramente le regole del meteo, i consumi, la decadenza, diciamo, il danneggiamento delle armi, potete creare tutto quello che volete, sempre da giocare con i vostri amici, sempre fino a un massimo di 8, mentre la partita normale, che è quella, l'avventura che accedete normalmente, è giocabile fino a 24 giocatori. Altre novità, beh, a ottobre ricorre un anniversario importante per Fallout, che è il 23 di ottobre, che è il giorno in cui sono cadute le bombe, diciamo, a Fallout in ogni suo capitolo, questo online, così come gli offline, partivano comunque sempre da un'esplosione, da un cataclisma, da un evento che cambiava il mondo, e il 23 di ottobre c'è questo anniversario, ma in realtà ci sono eventi un pochino per tutto il mese, e adesso ve li andrò a spiegare, mentre sto entrando, diciamo, nella partita col mio personaggio. Prima di tutto, prima ancora di spiegarvi queste cose, voglio farvi vedere quello di cui vi avevo già parlato, anzi, potrei farveli vedere aprendo il menu, nel negozio avete tante cose che sono acquistabili, sia estetiche che pacchetti vari, con gli atomi. Quindi, se il gioco vi piace, e secondo me è un gioco che può garantire decine e decine di ore, l'ho acquistato una volta, magari l'avete già acquistato, l'avete lì, può essere saggio, magari farvi questo, acquistare piuttosto che gli atomi, fate l'abbonamento, avete cose in più, però alla fine, se il gioco vi piace e lo giocate, può essere utile avere delle cose in più, più accampamenti, così. Riguardo anche gli accampamenti, vi parlerò dopo di una importante novità arrivata qualche patch fa, giusto per farvi capire quanto questo gioco sia stato portato avanti, e quindi se il vostro dubbio è, ok, io ci gioco, è un Fallout, io adoro i Fallout, voglio giocarlo con gli amici, ma anche da solo, ma quanto ci stanno dietro gli sviluppatori? Beh, parecchio, visto quanto lo hanno aggiornato. Comunque, vi voglio un pochino ricordare le date, soprattutto perché è molto importante, perché dal 19 al 25 di ottobre ci sarà la Free Play Week, cioè lo potete scaricare e giocare per una settimana, quindi vi fate un'idea, se poi il gioco vi piace, calcolate che è anche scontato dal 12 al 26, quindi parte ancora prima dell'inizio della week, quasi una settimana prima, lo trovate scontato per una settimana, e poi è giocabile gratuitamente senza acquistarlo per un'altra settimana, più un giorno ancora di sconti, quindi in pratica lo potete valutare bene, quindi io vi dico queste parole, convinto comunque di quello che dico, ma se voi ne dubitate, potete entrare e provarvelo gratuitamente. Ci sono altri eventi in questa settimana che avete gratuita all'interno del gioco, avete lo script Star Plus Weekend, quindi avete all'interno di questa settimana delle cose abbastanza avanzate, in pratica vengono date delle quantità aumentate nelle macchinette di scambio leggendarie, avete la vendita di armi e armature leggendarie anche se scontate, e avete l'evento mutazioni doppie, quindi praticamente avete delle quest giornaliere che fate e ogni giorno i mostri, i nemici scusate, hanno delle mutazioni diverse, sono 8 in totale e sono combinate, quindi avete ogni giorno delle quest casuali giornaliere con dei nemici un po' diverso, e inoltre, vabbè, c'è l'evento di Halloween che va dal 19 ottobre al 2 di novembre, quindi ci saranno mostri, nemici e ambientazioni a tema Halloween. Questo per farvi capire quanto il gioco è comunque interattivo con i player. Poi tra l'altro io sono stato sorpreso di aver trovato quest'arma qui perché ho trovato sempre armi abbastanza sgruppate, come si dice da me, e invece questa è una rivoltella normalissima, molto bella. Che altro dire? Vabbè, avete il vostro accampamento e calcolate che potete, adesso vi farò vedere qualche immagine, potete costruirvi, oltre all'accampamento definito il camp, potete crearvi degli accessi a un vostro semi-interrato, in pratica, all'interno del vostro camp create un'entrata e da lì accedete a un'area istanziata sotterranea. Tra l'altro all'interno dello shop con gli atomi avete diversi tipi di entrate diverse, tipo se siete dei first avete l'abbonamento, avete il rifugio lobby, se no la miniera è abbandonata. Guardate che bella. Vi fate questa entrata qui dove potete poi mettere le vostre cose. Vi posso far vedere anche questa, il rifugio del volt, quindi un vero e proprio volt tutto vostro, il silo missilistico, quindi con tutta l'entrata che poi potete andare a montare, diciamo, ad arredare come volete. Quindi è interessante. Poi ci sono anche altre cose, il veranda, casa infestata, ci sono un sacco di cose, poi so che molti di voi non piace il discorso del pago per ottenere, però sono cose estetiche. Io sono sempre dell'idea che se un gioco mi piace, io lo acquisto, lo pago 10, 15, 20, 30 euro. Il gioco mi garantisce decine e decine di livelli, quest, possibilità di cooperare con gli amici, e soprattutto, come non potete fare, sempre citando giochi, diciamo di questa tipologia, uno Skyrim, un Oblivion, vi fate il mazzo per ottenere un'armatura di un certo tipo, ma poi non la potete sfoggiare con i vostri amici, no? E qua lo potete fare. Io ieri vagavo qui, passa uno che asfalta tutti con un'armatura atomica, quindi è bello. Cioè, lui ha fatto una bella figura con me, non se ne è reso conto perché lo spiavo da dietro una siepe, però poi calcolate anche il fatto che è doppiato in italiano. Il gioco è rinato. Guardate quante... Adesso sto leggendo una quest. Ho preso una quest e ora devo scoprire che cosa ha per la chiave, ma in realtà vi avevo già portato questo gioco più volte, insomma, e lo trovo davvero vario, davvero interessante. Poi ovvio, c'è anche chi mi ha scritto, mi è venuto a noio, sì, ha fatto però 300 livelli, voglio dire, poi si aspettano i contenuti nuovi, gli eventi del mondo. Il mondo, lo ricordo, è grande così, ci si gioca in 24 persone e direi che è bello grande tra tutte le quest da fare, le cose da costruire, potete avere più camp, ovvio, volete 15 camp, che è il massimo totale, dovete magari aggiungere degli atom, è vero, ma quello è normale. E un'altra cosa che vi dico, la costruzione dell'entrata del vostro vault sotterraneo viene salvata, quindi se voi fate un altro camp con l'entrata, il vault viene salvato. Quindi queste sono più o meno quelle che vengono aggiunte, le cose che sono state pianificate per il mese di ottobre. Ricordatevi appunto, la settimana dal 19 ottobre al 25 ottobre, quella settimana lì, lo potete provare gratuitamente, penso su tutte le piattaforme, quindi dall'Xbox, Steam, betesna.net, col suo launcher, e su PlayStation per appunto provare con mano quello che il gioco può offrire. Il gioco è assolutamente giocabile, l'ho trovato veramente, veramente bello, anche come questo. Avevo già fatto un video un anno fa su quello che, su quelle che sono magari anche le scelte multiple che vi potete fare all'interno della... E poi avete tutto, l'interfaccia, tutta l'interazione, e tutta la possibilità di andare a craftare all'interno del vostro camp. Ok, direi che sono stato molto bravo. Tutta quella che è l'esplorazione è di conseguenza anche il paradiso dei looter, perché potete raccogliere la qualunque, da qualsiasi cosa, messaggi. storie dove potete andare appunto a esplorare, a calcolare, che però qui non è un gioco finito, ma è un gioco in continuo divenire. Io ringrazio ancora Bethesda per l'opportunità appunto di sapere queste informazioni. Lo farò vedere ancora, magari in una live una sera, e magari perché no farò vedere la modalità di creazione del mondo personale. quindi fatemi sapere sotto se siete interessati magari nel momento in cui potrò carriare una appalacchia tutta mia con delle mie regole, quindi potete anche per dire non mettete i limiti di costruzione costruite ovunque. Se qualcuno è interessato magari anche ad unirsi per una sera, un paio d'ore, un'ora, insomma, quello che è insieme, così per fare un po' di casino, un po' di quest, fatemi sapere sotto nei commenti e ragazzi con questo io vi saluto e adesso vado a girare un pochino la zona perché devo iniziare a macinare un pochino di livelli in questo gioco. Bella la... Questa zona qui che è una delle zone comunque iniziali, intanto vedete anche gli altri player che sono comunque di livello 176, 2, questi sono nuovi, sono appena usciti dal vault, c'è qualcuno qui di 143, insomma, il gioco è giocato ha il suo zoccolo duro diciamo di player e io continuo a dirvi provatelo, avete la settimana gratuita, io so che c'è continuamente della gente che continua ad essere in dubbio da questo titolo, continua a non perdonargli delle scelte del passato ma passateci sopra magari per un attimo. Ok, direi che potevo rimanere offeso. Ok, con questo è tutto ragazzi, spazio ai commenti adesso, alla prossima e ciao ciao!